TQIC TV, benvenuti, è partito il nuovo anno scolastico tra mille difficoltà e tante tante incognite. Insegnanti, personale della scuola, ma anche studenti e famiglie saranno chiamati ad una grande sfida. Ce ne parla Barbara Pasqualotto di Gilda Insegnanti Vicenza, benvenuta. Grazie. Allora, questo anno scolastico che è cominciato, ed è stato tutto un anno strano, bisogna dire, da questo 2020, da questa chiusura inaspettata, la didattica a distanza e adesso la ripartenza. Come vedete voi la situazione? Beh, la situazione è critica, però posso dire una cosa, che l'Italia ha bisogno che la scuola riparta. Ne hanno bisogno i ragazzi più che mai, soprattutto quelli più piccoli. Ne abbiamo bisogno noi insegnanti, perché la cosa più bella di essere insegnante è quella di avere un contatto diretto con i ragazzi, che sono i ragazzi. E la didattica a distanza è una misura di emergenza, oppure può essere complementare la didattica in presenza, ma non la può sostituire. Ma immagino, infatti anche le famiglie si sono molto lamentate di questo, che i loro stessi insegnanti avrebbero preferito essere presenti. Sono un po' presi di mira gli insegnanti in questo periodo. Non pare che non vogliono tornare a scuola, ma non è così, perché io sento molti insegnanti che invece vogliono tornare dai loro ragazzi. Sì, senz'altro. Diciamo che ci sono dei titoli un po' sensazionali sui giornali. Poi bisogna sempre andare a vedere qual è la verità, no? Allora, si parla di lavoratori fragili. Allora, i lavoratori fragili sono quelli, nella fattispecie, insomma nel mondo dell'insegnamento, sono quei docenti che per, non tanto per un fattore anagrafico, perché ad aprile erano stati dichiarati lavoratori fragili, i docenti con più di 55 anni. In realtà non è proprio così, nel senso che il lavoratore fragile è colui che ha delle patologie in atto che potrebbero, in caso di comorbilità, si dice, cioè se hanno la loro malattia sommata al Covid, potrebbe essere veramente pericolosa. Allora, per essere così esonerati, diciamo, bisogna fare un iter ben preciso, ed è il medico competente che lo decide. Per cui a leggere i giornali sembra che gli insegnanti ne facciano richiesta e vengono esonerati. Non abbiamo voglia di lavorare, invece io ho visto anche durante la didattica a distanza quanto hanno lavorato, forse molto più che in presenza. Sì, posso dire per esperienza personale che la didattica a distanza è stata molto impegnativa, perché bisogna sempre pensare che per un'ora di didattica a distanza c'è una grande preparazione dietro. Ecco, quindi ci sono stati dei mesi veramente di lavoro molto intenso e credo che nonostante tutto sia stata anche un'opportunità per noi, nel senso che abbiamo acquisito nuove conoscenze, abbiamo trovato nuove modalità, però, come ripeto, è una misura che deve essere circoscritta, ecco, la didattica a distanza non può sostituire, certo, la didattica in presenza. Io credo che con questa emergenza sanitaria si sia aperta una nuova era veramente anche per la scuola e purtroppo attualmente abbiamo tante incertezze davanti e tante paure, ecco, però... Quali sono i problemi principali che la scuola deve affrontare e che ruolo deve anche recuperare la scuola? Allora, beh, i problemi principali, i problemi sono tanti e non saprei nemmeno da dove cominciare. Da dove cominciare, quello è vero in effetti. Allora, mi viene da dire una cosa. Allora, le scuole si stanno adoperando molto per mettere in atto le misure di distanziamento, ok? Allora, alcune scuole che sono magari più piccole, che hanno più possibilità, che hanno più locali, vedo, ad esempio, io insegno in un istituto comprensivo nella scuola media e la nostra scuola non è grandissima e quindi siamo riusciti a distanziare bene gli alunni. Non sempre è stato... per altre scuole non è stato facile reperire gli spazi, reperire i locali, eccetera. Avrete sentito parlare, insomma, di questa problematica. Di banchi, distanziamento, eccetera, eccetera. Allora, i problemi sono diversi perché gli alunni entreranno in classe sicuramente distanziati e poi abbasseranno la mascherina e l'insegnante la dovrà tenere, la tiene, insomma, ecco. Non è facile e io, dal mio punto di vista, dico, non so, sarebbe stato forse il caso di mettere delle visiere piuttosto... Vabbè, questa è una mia opinione. Che già i ragazzi non ascoltano quando si parla loro senza mascherina, così ho paura, che soprattutto per quelli più lontani si è difficile anche farsi sentire. Sì, poi naturalmente si parla di alunni to cure, in realtà le problematiche sono molto diverse a seconda dell'età, perché i bambini dell'infanzia, beh, peraltro si sa che per i bambini fino a sei anni non sono previste le mascherine, quindi la scuola dell'infanzia ha avuto le sue linee guida ed è una categoria a parte. Per i bambini, i ragazzi più grandi, appunto, c'è anche questo discorso delle mascherine che verranno poi utilizzate ogni qualvolta si alzeranno, eccetera. Esiste un problema, sì, di sanificazione, senza dubbio, quindi c'è una grande, sono molto impegnato anche il personale alta con le pulizie, eccetera. C'è un problema di controllare i ragazzi quando, diciamo, usufruiscono degli spazi comuni, la ricreazione, i servizi igienici, eccetera. Poi, quello che fanno quando sono fuori dal cancello, purtroppo su quello... Non si può intervenire. E c'è questo problema, cioè la popolazione degli insegnanti italiana è, si sa, a una certa età, perché il 40% degli insegnanti ha più di 55 anni. E quindi vi faccio, vi lascio pensare, insomma, cosa questo può comportare. Noi abbiamo, io ho parecchi colleghi che hanno più di 60 anni, quindi sicuramente... Sono preoccupati, anche, sì. Sono molto preoccupati, eccetera. Certo. Poi mi viene da fare un'altra osservazione. La scuola mette in atto tutta una serie di misure per assicurare il distanziamento. E i trasporti? E quello è l'altro nodo fondamentale, adesso li hanno un po' ridotti, ma forse c'è più promiscuità nei trasporti, difficoltà anche a farli arrivare distanziati che non a scuola. Eh, infatti, quello è un bel punto di domanda e non mi si dica che non ci si poteva pensare prima, perché sono parecchi mesi che si sapeva benissimo che bisognava arrivare a questo nodo, no, a risolvere i problemi dei trasporti. Purtroppo le risposte sono sempre quelle. Non ci sono mezzi, non c'è personale, non ci sono risorse, però io credo che bisogna anche darsi delle priorità. Anche la scuola per tanti anni forse è stata un po' lasciata da parte, nel senso sono stati fatti pochi investimenti, mancava il sapone, mancava la carta, mancavano le cose fondamentali anche per la didattica, classi sempre più numerose e stiamo pagando anche questo, direi, no? Sicuramente. Io sono 30 anni che sono nel mondo della scuola e da 30 anni vedo tanti problemi e tanti proclami, ma pochi fatti. Cioè bisogna veramente decidere di investire nella scuola. E io mi arrabbio abbastanza quando sento, ad esempio anche i politici, di tutti gli schieramenti che si riempiono sempre la bocca di questa parola. La scuola, la scuola è il nostro futuro, bisogna pensare ai giovani, bisogna investire, eccetera. Però poi di fatto non abbiamo visto nessun investimento importante, certo. Infatti saprete benissimo che noi in Italia siamo tra il fanellino di coda dell'Europa per l'investimento nella pubblica istruzione. Allora le riforme a costo zero non si possono fare. Bisogna veramente darsi delle priorità, bisogna investire nella scuola, bisogna investire negli insegnanti, bisogna dargli dignità, bisogna dargli un lavoro, bisogna dargli formazione, un lavoro ben retribuito, bisogna ridargli la voglia di insegnare, bisogna togliergli un po' di scartoffie, di burocrazia. Perché guardate che anche la didattica a distanza ha comportato un aggravio burocratico per noi, non da poco. Alla fine eravamo più sfiniti per i vari PIA, PAI e cose da compilare che non per lo sforzo della didattica in sé. Anche secondo me forse si dà poca importanza ormai al rapporto proprio con il ragazzo, alla sua crescita, a seguirlo e a fargli apprendere determinate nozioni e si è proprio veramente coperti da, come diceva lei, questa massa di documenti da compilare, di burocrazia. Ma tornando al discorso insegnanti, il fatto che continuano a cambiare le regole ogni anno, anche per diventare insegnanti, no? Gli stessi insegnanti non sanno più che percorsi devono fare, cominciano a scuola, poi quella non è più valida, oppure prendono dei punti, facendo determinati e poi non vengono più tenuti conto. I graduatori che escono adesso con sorprese perché ogni anno addirittura sono cambiate le regole. Quest'anno, proprio una settimana prima, pochi giorni prima di presentare, non so, le domande per le graduatorie, quindi insegnanti che siano preparati per 3-4 anni per avere determinati punteggi, per poter avere un lavoro finalmente, magari dopo anni e anni di precariato, e invece precari storici che vengono quasi messi ai margini. Su questo fronte come vi state muovendo? Allora, il reclutamento è un problema molto grave nella scuola italiana, un problema annoso. Io, ripeto, insegno da tanti anni e ho visto vicendarsi mille modi di reclutamento diversi. Allora, bisogna veramente finirla, bisogna dare dei percorsi chiari e bisogna rendere il mestiere dell'insegnante più allettante, anche per i giovani. È ancora allettante oggi fare l'insegnante. È ancora allettante, non tanto secondo me. È che il mercato del lavoro comunque in generale ha molte criticità in Italia, per cui vedo che molti giovani si buttano sull'insegnamento, ma non credo che tutti lo facciano per scelta. Credo che sia, diciamo, una delle molte opportunità che loro prendono in considerazione. Io sono laureata in tedesco, insegno in tedesco e vedo che, ad esempio in Germania, il lavoro di insegnante è piuttosto ambito dai ragazzi. Questo perché è intanto ben retribuito e anche perché i percorsi sono chiari. La vocazione dell'insegnante si matura già all'università. Da noi... Tante volte forse non ripiego, non si trova altro, magari vado a insegnare qualche mese, vediamo cosa succede. Esatto. Vi racconto questo aneddoto perché è abbastanza bufo, però è abbastanza emblematico. Una mia amica tedesca che mi dice, ma com'è che da voi insegnano gli ingegneri, insegnano gli avvocati? Non è possibile da noi, se tu vuoi insegnare, devi decidere già a 19 anni, no? Ecco, quindi sicuramente bisogna investire di più e tracciare dei percorsi chiari e ben definiti e certi, di modo che se un giovane vuole andare a fare l'insegnante sappia cosa deve fare, quali sono gli ostacoli da superare, eccetera. Più che mai questa confusione si è accentuata nell'ultimo periodo, perché? Perché in Italia c'è sempre questa cosa del porre il rimedio, dello straordinario, concorso straordinario. È sempre tutto straordinario. Tutto straordinario, purtroppo. E invece bisognerebbe fare o l'ordinario, lavorare bene sull'ordinario. In realtà, quando si è cominciato a parlare di queste nuove graduatorie, del concorso straordinario, ordinario, eccetera, pensate, era l'aprile del 2019, ok? Ok. E in quel disegno di legge, che poi è diventata una legge, era previsto, scusate, in quel decreto legge, che poi è diventata una legge, era previsto un disegno di legge che disciplinasse una volta e per tutto l'accesso. L'accesso alla professione. L'accesso alla professione, ecco. Dov'è finito quel disegno di legge? Ma poi fra l'altro questi disegni di legge dovrebbero essere fatti per chi si avvicina per la prima volta al mondo della scuola. Non può essere fatto per persone che magari insegnano da 10-15 anni sempre con contratti a termine, quindi neanche più in regola a livello europeo, e che si trovano ogni anno regole diverse, quindi forse prima di aprire a nuovi concorsi era il caso, prima di regolarizzare tutte queste posizioni in sospeso, magari di precari storici, e poi, allora, le nuove regole vanno benissimo per chi finisce l'università e si approccia al mondo della scuola. Ma io dico, allora, il filtro, se lo si deve mettere, lo si deve mettere a monte. Non si può fare lavorare una persona assumendola, licenziandola, assumendola, licenziandola per vari anni, e poi di lì, eh no, perché tu devi fare questo concorso e quest'altro concorso. I programmi dei concorsi, se voi li guardate, sono delle cose... Certo che poco, le volte con la professione. No, ma non esito a dire allucinanti, perché le competenze che sono richieste sono anche poco realistiche, eccetera, nel senso che vengono richieste delle competenze. Infatti. Cioè, in parte, lo capisco, giustificate, in parte veramente, non lo so, chi possa avere le competenze richieste dei concorsi. Poi dovrebbero essere le competenze, le ho date in fase di preparazione, in fase universitaria, in altre fasi, si danno già queste competenze che sono fondamentali. Io faccio sempre l'esempio, dico, ma non è che in un'azienda una persona venga assunta, venga fatta lavorare con contratti a termine ogni anno per 15 anni, 20 anni, e poi gli si dica, adesso ti facciamo l'esame per vedere se puoi stare qua l'ultimo anno prima di andare in pensione. Cioè, veramente un'assurdità. È vero che nell'insegnamento si entra per concorso, vabbè. Però, ad esempio, in questo momento di eccezionalità, in cui abbiamo così urgente bisogno di insegnanti, si pensi che su 85.000 insegnanti che dovevano essere messi in ruolo, ne saranno stati messi in ruolo, beh, io dico, nella provincia di Vicenza, io non ho fatto i calcoli, però, non so, un 30%, dico adesso, no. Quindi vuol dire che le graduatorie sono vuote. Certo. C'è un bisogno estremo di insegnanti. Allora, io dico, c'è stata tutta quella cherella, concorso per soli titoli, eccetera, no? Allora, forse in un momento di eccezionalità come questo si poteva anche dire, ok, i precari storici, facciamogli entrare, poi magari si fanno un percorso particolare e alla fine si fa una prova, un esame orale, un elaborato, cioè, voglio dire, un percorso didattico che magari sia anche severo, voglio dire. Però, tutto questo impuntarsi anche della Ministra sul fatto di voler a tutti i costi questo concorso straordinario, a che cosa ha portato? Che siamo qui in alto mare, mancano un sacco di docenti, 200.000 posti liberi. È il problema di ogni anno, di fatto, ogni anno dicono, lo risolveremo, ci organizzeremo prima che inizi la scuola, eccetera, invece poi la scuola inizia e i problemi restano. E quest'anno è un anno particolarmente critico, perché se non ci sono docenti, ci devono essere più docenti, però è stato stanziato anche questo famoso miliardo che dovrebbe portare qualche docente in più per istituto, no? Però ci devono essere, voglio dire, anche i docenti da reclutare e preferibilmente dovrebbero essere reclutati a tempo indeterminato, perlomeno quelli che, voglio dire, hanno un'esperienza pluriennale, no? Sì, infatti. Quindi, sì, 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 non sono, io personalmente, io ho il mio sindacato, insomma, penso, qualsiasi persona di buon senso, non è sicuramente soddisfatta di come è stata gestita la questione del reclutamento e come è gestita. Non iniziamo nemmeno a parlare delle gradotarie o delle supplenze, perché dovremmo stare qui qualche ora. Sì, infatti, e purtroppo staremo qui veramente per ore a parlarne, perché è molto interessante, ma magari ci vedremo in qualche prossima occasione e così approfondiamo qualche altro argomento, visto che sono così numerosi e non mancano. Intanto la ringrazio di essere stata con noi in questa puntata per averci intanto introdotto nelle varie problematiche del mondo della scuola e ci riserveremo di rivederci futuro, appunto, con voi e anche con altri esponenti dei diversi sindacati per capire anche come vi state muovendo, cosa farete per il futuro, eccetera, eccetera. Intanto vediamo come va quest'anno e un grosso in bocca al lupo. Incrociamo le dita per quest'anno. In bocca al lupo agli studenti, agli insegnanti e a tutto il personale della scuola e dai che vada bene, speriamo. Grazie ancora e grazie a voi per averci seguito. Arrivederci. 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 Ciao! Grazie a tutti.